Non è un Santo Stefano come gli altri, non è un Santo Stefano sereno per Camolese e Bisoli. Provercelli e Cesena hanno bisogno di punti, una è penultima, l'altra quart'ultima. Oggi non c'è spazio per le distrazioni, non è tempo di essere troppo raffinati, serve essere concreti per entrare nel 2013 con un altro ritmo. Appassionati della Serie B Win, dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, buon pomeriggio da Richie Buscaglia. Tagliato sul primo palo, deve mettere i pugni Miranda, che fa così il suo esordio in campionato. Contro, traversone, deviazione! E il Cesena in vantaggio, è stato un autorete a sbloccare il match dopo nemmeno 90 secondi. Apre per Succi, che va al volo, gran palla di Succi! Raddoppio del Cesena, segna Rodriguez. Ma cosa ha preso Succi? Assist magnifico di Succi. Tocco sotto misura di Rodriguez. Cesena 2, Provercelli 0. Questo va a lavorare in piglio, Gessa, abitato giù da Sini, occhio gialli, giallo in arrivo. Scavone. Sterza, rientra, deve fidarsi del destro, botta! Traversone di vincimento, colpo di testa in rete! L'episodio che voleva Camolese, ha segnato Modolo. 2 a 1, accorcia le distanze, la Provercelli. Arriva il Traversone, ravaglia con un pugno, la palla lì mischia da Furibondo. E finisce il primo tempo. C'è spazio per Scavone, che da qui mira la porta, prova il mancino! Palla che fischia, alla destra di ravaglia. Scavone, va ad aprire un orizzontale. Di siniestro che si è ripreso. Arriva anche Sini, di siniestro vada solo. Destro! Ancora ravaglia! Il pallone anche rosso, di siniestro, stavolta sul mancino. Di siniestro! Ha un'unghia dal pareggio, la Provercelli. Cosa lì? Batto fuori, da Brandauco, però lo tocca. Faccio di un'elezione e un'elezione per Brandauco. Sini, sotto corto per Sigoni, che si gira. Sini, azione spettacolare! Col destro Sini, palla alta. Palla alta. Desiniestro, manda in porta di Paola. La cancia di testa in qualche modo. Sigoni, ingabbiato. Sigoni, si gira! Ravaglia! Allora arriva Benci, venga. Il casco, stavolta con Brandau. Secondo giallo e rosso. Espulso Brandau. Carraro, pasticcia, scarabocchia. E tre contro due. Match point Cesena. D'Alessandro, scarica, Persucci. Diagonale! Gioco, partita, incontro. Punto esclamativo di Succi. Il Cesena, spanca il Piola. E adesso Sini, già monito, rimedia il secondo giallo e il rosso. Eccolo il triplice fischio della penna. Provercelli uno, Cesena tre. Il risultato finale del Piola.